Prosegue lo sciopero della fame dei sindaci di Salve, Morciano di Leuca, Castrignano del Capo, Patù e Tricase contro le autorizzazioni ministeriali approvate nei giorni scorsi alle prospezioni petrolifere in mare sia nel versante adriatico che ionico del Salento. I primi cittadini Vincenzo Passaseo, Luca Durante, Anna Maria Rosafio, Francesco Denuccio e Antonio Coppola hanno chiesto un incontro urgente con il governatore di Puglia Emiliano perché si arrivi al più presto ad una presa di posizione congiunta delle regioni di opposizione alle decisioni ministeriali. Intanto è arrivato anche l'appoggio della provincia di Lecce schierata al fianco dei sindaci e delle associazioni che protestano contro le autorizzazioni alle prospezioni petrolifere in mare. Ieri mattina all'Euca la campagna Laudato sì, Trivelle no di Italia Nostra. Per domenica prossima ci sarà una manifestazione di protesta.